vedo che i nostri amici si stanno divertendo a tenere la testa e le zampette piccoline nella cuina ciao a tutti ragazzi io mi chiamo leoardo e benvenuti su leo toys oggi vi faccio vedere di the epic animals creature dei ghiacci cominciamo subito ad aprirgli perché già la bustina mi ispira tantissimo apriamo apriamo vediamo cosa c'è dentro vediamo cos'è all'interno trovate il vostro epic animals e una rivista e ovviamente li trovate in edicola allora vediamo un pochino vediamo un pochino cos'è coccorino il cucciolo di foca della griglia è il mio preferito cambia colore in acqua con ghiaccio mamma mia cominciamo benissimo ragazzi sono 16 creature dei ghiacci di cui 3 glow in the dark 3 che cambiano colore in acqua ghiacciata e poi c'è un pinguino che ha delle sfere gel all'interno apriamo apriamo questo secondo me si illumina al buio perché non vedo dai materiali guardate com'è gommosa questo è il leopardo delle nevi mi sembra un beluga mi sembra un beluga potrebbe essere un beluga o una balena ve lo faccio inquadrare è un capodoglio vediamo questo un lupo delle nevi che si illumina al buio ne sono sicuro si vede si vede come questo vediamo 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 lupo lupo artico lupo delle nevi si lupo artico si ragazzi si illumina al buio guardate che carino da vicino non sarà poi tanto carino con voi il pinguino che carino questo è il mio preferito è bellissimo il pinguino pingu 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 guardate si vedono le sfere di gel all'interno vediamo qui una balena oh balena vediamo vediamo come si chiama balenotera azzurra no non lo so vediamo sono curioso è una balena della Groenlandia ragazzi vediamo come fa il pinguino pingu 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 è un cucciolo di pinguino imperatore è un pulcino di pinguino imperatore oh carine pingu 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 guarda e questa è l'intera collection intera collezione pinguine aquila di steller cambia colore in acqua con ghiaccio bufo delle nevi si illumina il buio elefante marino pulcinella di mare leopardo delle nevi che si illumina il buio pulcino di pinguino imperatore trasparente con sfere gel bellissimo carino cellorca orso polare tricheco beruga lupo artico che si illumina il buio che si è addormentato addosso al beluga buonanotte poi c'è il pinguino crestato la balena dell'aonellandia il bisonte artico e i due cucciolini carini di foca che cambiano colore in acqua col ghiaccio e infine il capo d'olio visto che sono creature dei ghiacci ho preparato un po' d'acqua col ghiaccio ghiacciato che l'acqua è veramente gelida non riesco a metterci i mani dentro veloce veloce guardate pezzo di ghiaccio adesso gli facciamo fare un bagnetto tuffati guardate come fa scende in picchiata fa così in realtà si mette la coda qua dentro chiude le ali e vai giù oh mamma mia il bianco è diventato verde wow come vedete cambia colore all'istante perchè ho messo dell'acqua super super ghiacciata adesso mettiamo l'orso pularo wow wow adesso c'è tutto se clicco c'è tutto guardate che bello mi ha fatto uscire un po' di di acqua è diventato oscuro adesso con le mani ho fatto tutto è normale perchè ho il calore nelle mani e adesso piccoli i miei amichetti saltate tutti e due splash così wow insieme oh no no ragazzi questo sarà stupendo sarà stupendo io non guardo anzi una alla volta sarà bellissimo io non sto guardando avevo visto un pelino di blu vedo solo della luce blu io non vedo niente perchè vedo il bianco qua sembra che l'acqua diventi blu ma non è vero è lui che è diventato blu eeeeeee coccorino vedo che i nostri amici si stanno divertendo a tenere la testa e le zampe e le zampe e le zampe piccoline nella quina mmm ma sono blu completamente blu come i miei occhiali anche bagnati ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete mi piace siiiiice se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale ciao ciao da Leonardo le due fochette carine carine e tutta la collezione di the epic animals creature dei ghiacci ciao guardate 3 2 1 ciao si abbraccia ciao 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 ciao